Buongiorno e benvenuti al nostro primo spazio informativo dedicato alla notizia del giorno. I tassisti e ricini protestano per il provvedimento adottato dal presidente di AERGEST di far pagare un euro anche a loro per l'ingresso in aeroporto. Stamattina li abbiamo ascoltati. Da oggi dovete pagare per far aprire la sbarra un euro e non avete nemmeno un posto ufficiale, diciamo le strisce gialle, dove potreste stare. Dovete lasciare i passeggeri nell'area parcheggio, insomma tutta una serie di problematiche che voi avete contestato nei giorni scorsi e che continuate a contestare. Nino. Allora io quello che devo dire oggi mi trovo in una situazione brutta come servizio taxi della nostra città di Erice. Per andare a recuperare i miei passeggeri che mi prenotano su prenotazione in aeroporto di Birgi mi trovo all'ingresso una sbarra dove che devo ritirare un ticket per poi pagare all'interno che non so che costi avrà, se un euro, se due euro, se tre euro. Io praticamente mi trovo in questo grande disagio e non poter accedere ai miei stalli aeroportuali, che gli stalli sono di proprietà di tutti i tassisti sia siciliani che italiani, qualunque taxi si possa posteggiare in quelli stalli, sono chiusi con una sbarra perché riconoscono soltanto una targa, che significa questa targa. La targa è per i taxi di Trapani e quelli di Marsala. E perché un taxi di Erice non può entrare in quell'area che è adibita per i taxi, dove ci sono circa 20 stalli taxi che appartengono alla provincia di Trapani? Perché dobbiamo avere questo piccolo problema con questo aeroporto? Penso che sia una cosa giusta e leale che noi quando arriviamo in aeroporto la sbarra si apra da sola senza pagare nulla. Noi sostanzialmente siamo disposti a venire incontro alle esigenze dell'Ailgest sicuramente, però con le dovute maniere e con i dovuti modi. Noi non siamo disposti a pagare per entrare, quindi il nostro è un servizio pubblico e ci devono assolutamente permettere di entrare per lavorare. E abbiamo anche bisogno di avere degli stalli dedicati a noi. Non possiamo andare come tutte le altre utenze in un parcheggio con il rischio di non trovare posto, con il rischio di far fare strada in più ai nostri clienti e con il rischio di incolfare ancora di più il traffico. Ripetisco, noi siamo un servizio pubblico. Per me possiamo anche contribuire, ma in maniera, diciamo così... Però quanto meno dovete avere dei servizi. Però quanto meno dobbiamo avere dei servizi. Ci sono delle normative nazionali che stabiliscono il transito dei servizi pubblici, sia NCC che taxi, all'interno di aeroporti, porti, stazioni. Il Presidente Ombra si è impuntato nel pagamento di questo ticket di un euro per quanto riguarda noi tassisti, senza però capire che il servizio pubblico è un servizio che viene dato alla collettività, che è un servizio che le persone devono prendere per poter andare dall'aeroporto alle altre destinazioni. Personalmente ho chiesto al Presidente Ombra di farmi vedere la legge che impone il pagamento di questa cosa. Ancora non ho avuto nessuna risposta. Ma la cosa più assurda è che ancora oggi aspetto l'ordinanza dell'ENAC dove stabilisce quanto detto dal Presidente Ombra e a quanto detto io sono andato fino a dieci minuti fa a vedere sul sito dell'Argest. Non c'è nulla su questo. Questa era la nostra notizia del giorno. Ci rivediamo tra pochissimo con tutte le altre notizie di oggi. Vi aspetto. Fava lascia la Commissione Antimafia, una scelta legata all'impegno politico nel centro-sinistra e per rispetto istituzionale. Favignana controlli dei carabinieri del lavoro, denunciati due imprenditori edili ed elevate ammende per 30.000 euro, non rispettate norme di sicurezza sul lavoro. Domani, Festa della Repubblica, trapani tradizionali celebrazioni in Piazza Vittorio Veneto a Favignana, ringraziamenti ai rappresentanti delle Forze dell'Ordine e del personale sanitario. Caro Bollette, Adiconsum apre sportelli presso la Cisle di Trapani, avvocati a disposizione per verificare gli importi di bollette di luce, gas e acqua. Parente, altri due anni, rinnovo per il coach della pallacanestro Trapani che siederà in panchina per altri due campionati. Il provinciale intitolato a Basciano, sciolto ogni riserva, lo stadio provinciale sarà intitolato a Giacomo Basciano che ne fu direttore per 28 anni. Ben ritrovati con il nostro notiziario. Claudio Fava ha comunicato di aver lasciato la presidenza della Commissione regionale antimafia che non parteciperà più alle sue riunioni per una questione di opportunità e di rispetto istituzionale. Vediamo il servizio. Avevo detto che il 31 maggio dopo aver approvato queste ultime due relazioni avrei fatto un passo di lato che vuol dire che non mi asterrò dal partecipare come componente, come presidente e lascio la presidenza alle mie due vicepresidenti, lo considero una questione di opportunità e arriva alla conclusione di un lavoro che però oggi mi è piaciuto assieme ai colleghi poter rivendicare. Abbiamo approvato 12 relazioni, abbiamo fatto 300 audizioni, 600 audizioni, abbiamo raccolto 250.000 pagine di atti acquisiti da questa Commissione, abbiamo presentato due progetti legge, tutte le 12 relazioni sono state approvate all'unanimità. Mi sembra che i temi sui quali ci siamo cimentati e misurati non sono temi neutrali anche rispetto alla politica, dai rifiuti alla sanità, ai beni confiscati, alle periferie, alle partecipate. Il fatto che questo lavoro abbia portato a un voto convinto unanimo da parte di tutti i commissari, ricordo che 8 commissari su 13, 9 commissari su 13 sono del centro-destra, io lo considero dal punto di vista mio, personale, politico, la più bella gratificazione potessi avere perché dimostra la qualità del lavoro che abbiamo costruito in questi anni. Adesso la cronaca, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani hanno operato una serie di controlli nei cantieri edili di Favignana, il servizio. I Carabinieri della stazione di Favignana e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani hanno svolto una serie di ispezioni nell'ambito della campagna di controlli straordinari dei cantieri edili promossa dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. In particolare i militari hanno eseguito l'accesso ispettivo in tre cantieri, verificando la regolarità delle posizioni lavorative di 8 persone. A conclusione degli accertamenti, i Carabinieri avrebbero rilevato presunte violazioni della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro a carico di due imprenditori, legali e responsabili di altrettante ditte di le con sede in Marsala. I due sono stati denunciati. Le presunte violazioni riguardano il mancato invio di alcuni lavoratori alla visita medico-preventiva per l'idoneità alla mansione, non avere dotato il ponteggio in uso per lavorazione in quota e le scale e muratura di apposito parapetto e tavola ferma-piede per limitare i rischi di caduta e non avere dotato alcuni lavoratori dei necessari DPI, dispositivi di protezione individuale. Il controllo ha portato anche alle erogazioni di 5 ammende per un importo complessivo di circa 30.000 euro. Sono iniziati a Trapani servizi aggiuntivi che sono stati attivati grazie ai risparmi per la riduzione della raccolta del secco da due a una volta a settimana. Vediamo i dettagli nel servizio. A Trapani saranno operative quattro squadre di diserbo fino a metà luglio. È scattato anche il potenziamento della raccolta degli ingombranti e dello spazzamento manuale delle strade secondo necessità. Dislocata nelle varie zone del territorio c'è anche la squadra di operatori con soffiatori a servizio delle spazzatrici. Grazie alla riduzione del ritiro del secco dalle utenze domestiche è scattato anche il potenziamento del lavaggio del centro storico e degli interventi di bonifica per le discariche abusive. Ci saranno poi gli ecopunti itineranti per ritiro sfalci di potatura. Come ricordato dall'assessore all'ecologia e ambiente Nini Romano, tutti questi servizi aggiuntivi saranno assicurati dal risparmio scaturito dalla riduzione del ritiro del secco da due a una volta a settimana, stimato per il 2022 in circa 350 mila euro per gli anni successivi. Si stima una spesa di circa 500 mila euro. Reintegrato il dirigente del comune di Erice, Leonardo Di Benedetto. Vediamo. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'interdittiva emessa nei confronti di Leonardo Di Benedetto, originario di Castellammare del Golfo, dirigente del comune di Erice, imputato per violazione di segreto d'ufficio. I supremi giudici hanno cassato l'ordinanza del GIP di Trapani di provvedimento del Tribunale del Riesame di Palermo. Il primo aveva applicato la sospensione del servizio per un anno, il secondo l'aveva ridotta a sei mesi. È stato lo stesso sostituto procuratore generale della Cassazione a chiedere l'annullamento senza rinvio. Il caso di Di Benedetto è rientra fra quelli per cui non si commette violazione, cioè quando le notizie vengono rivelate a persone, ad esempio il sindaco, che sono tenute a saperle per fini istituzionali, oppure che ne sono già venuti a conoscenza. Secondo l'accusa, Di Benedetto avrebbe rivelato al sindaco che erano in corso delle indagini in materia di violazione urbanistica. E a metterlo nei guai sono state le indagini difensive prodotte dal sindaco di Erice, Daniela Toscano, coinvolte assieme al fratello Massimo, consigliere comunale di Trapani, nel cosiddetto scandalo del parcheggio di San Giuliano. Inchiesta scaturita dalla denuncia presentata dall'imprenditore Riccardo Agliano e poi archiviata. Ma la vicenda, nei mesi scorsi, si era arricchita di un nuovo capitolo, la sospensione di Leonardo Di Benedetto, responsabile del settore affari generali e servizi demografici del comune della Vetta. Il provvedimento, infatti, si riferisce proprio a quell'inchiesta e all'epoca dei fatti il dirigente ricopriva la carica di vice segretario generale. A notificare la sospensione a Leonardo Di Benedetto erano stati i carabinieri. Ci fermiamo per una breve pausa e ci rivediamo tra pochissimo con la seconda parte del nostro notiziario. Domani, Festa della Repubblica, Trapani tradizionali celebrazioni in piazza Vittorio Veneto a Favignana, ringraziamenti ai rappresentanti delle Forze dell'Ordine e al personale sanitario. Caro Bollette, Adiconsum apre sportelli presso la Cisle di Trapani, avvocati a disposizione per verificare gli importi di bollette di luce, gas e acqua. Parente, altri due anni, rinnovo per il coach della pallacanestro Trapani che siederà in panchina per altri due campionati. Ben ritrovati con la seconda parte del nostro notiziario. 2 giugno, Festa della Repubblica. Domani la consueta cerimonia presso il monumento ai caduti di Trapani per celebrare la ricorrenza e il servizio. La Repubblica italiana ha 76 anni. Domani la ricorrenza sarà celebrata in tutta Italia. Cerimoni attese ovunque, anche perché giungono dopo due anni di sobrietà obbligata dalla pandemia. A Trapani la ricorrenza sarà celebrata in piazza Vittorio Veneto davanti al monumento dei caduti tra la prefettura e la questura presenti le autorità civili, militari e religiose dell'intera provincia. Nel corso della cerimonia, che avrà inizio alle 9.30, sarà deposta una corona da loro in omaggio alle vittime di tutte le guerre e sarà data a lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Nell'ambito della manifestazione avrà luogo la consegna ai familiari di due medaglie d'onore in memoria di Gioacchino D'Angelo e Leonardo Miceli, quale riconoscimento del sacrificio per essere stati deportati e internati nei lager nazisti nell'ultimo conflitto mondiale. E sarà ufficializzata la posa della prima pietra d'inciampo in memoria del Sergente Maggiore Diego Puccio. Sarà inoltre insignito della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, il primo luogotenente Mario Giuseppe Milana del 37esimo stormo Cesare Toschi di Birgi. E sempre domani in occasione della Festa della Repubblica, l'amministrazione comunale di Favignana consegnerà dei ringraziamenti alle forze dell'Ordine e al personale sanitario per le attività svolte al servizio della comunità Egadina. A seguire la presentazione della mostra Iflorio. Vediamo. Il 2 giugno, Festa della Repubblica alle ore 10.30 a Palazzo Flori a Favignana è in programma una manifestazione promossa dall'amministrazione comunale nel corso della quale saranno consegnati degli attestati di ringraziamento alle forze dell'Ordine e al personale sanitario per il valore e le attività svolte al servizio della comunità Egadina. Con questa cerimonia e il conferimento degli attestati di ringraziamento ha rimarcato il sindaco Francesco Forgione. L'esecutiva Egadino intende esprimere la riconoscenza dell'amministrazione comunale alle forze dell'Ordine per le attività espletate quotidianamente e al personale sanitario per la tutela della salute pubblica, soprattutto in un periodo difficile e complicato come quello pandemico. Per il vice sindaco Vito Vaccaro si tratta di esempi mirabili di professionalità ricordando come l'attività delle forze dell'Ordine non sempre sia nota ai cittadini che vengono a conoscenza dei fatti, che balzano agli onori della cronaca ma non conoscono il lavoro quotidiano e silenzioso che questi uomini e donne compiono ogni giorno per la prevenzione e la sicurezza dei cittadini. A seguire ci sarà presentazione della mostra fotografica I Florio, storie di famiglie e di imprese promossa dall'Associazione Casa Florio, curata da Daniela Brignone e realizzata grazie al contributo della Regione Sicilia assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana. La mostra che ripercorre la storia familiare e imprenditoriale sin dal loro insediamento nell'isola alla fine del XVIII secolo sarà ospitata al secondo piano di Palazzo Florio a Favignana. Si snoda attraverso il racconto di tre generazioni delle loro imprese e passioni che tocca le tappe più salienti della vita dei singoli personaggi e di una crescita economica e sociale rapida e costante fino al declino. Una storia privata e pubblica in cui si intrecciano avvenimenti storici e imprenditoriali che hanno lasciato tracce indelebili in Sicilia. Caro bollette, luce, gas e acqua l'Associazione di consumatori Adiconsum dedica due giornate alla verifica delle fatture presso le sedi della CISL il 7 giugno a Trapani e l'8 a Palermo. Chi ricevendo una bolletta di luce, gas e acqua ritiene che gli importi siano frutto di qualche errore nel calcolo delle somme dovute di tariffe non previste dal proprio contratto o di consumi applicati non corrispondenti ai propri può rivolgersi ad Adiconsum Palermo-Trapani l'Associazione dei consumatori che ha deciso di dedicare il 7 e l'8 giugno prossimi sia nelle sede trapanese sia in quella palermitana una giornata di verifica di tutte le voce contenute nelle fatture di coloro i quali hanno dubbi sugli importi ricevuti. A Trapani, in piazza Ciaccio Montalto i legali dell'Associazione saranno disponibili martedì 7 giugno dalle 16 alle 18 presso la sede della CISL ci si può regare negli uffici senza prenotazione ma per ogni informazione il numero a disposizione per la sede di Trapani è il 389 13 315 82 con il nuovo stanziamento il decreto varato dal Consiglio dei Ministri a febbraio è stato esteso l'azzeramento degli oneri generali di sistema che così tanto pesano sulla bolletta anche per il secondo trimestre cioè alle bollette emesse dal 1 aprile al 30 giugno 2022 ma i costi continuano a essere elevati ed è quindi meglio verificare la congruità degli importi applicati la di consumo può seguire tutte le fasi di un eventuale ricorso come anche la richiesta di rateizzazione per il segretario generale CISL Palermo Trapani Leonardo Lapiana il compito di un'associazione come Adconsum è proprio quello di non lasciare soli consumatori nei momenti più difficili e che incidono fortemente sulle casse delle famiglie chiudiamo con gli appuntamenti su Tele Sud questa sera una nuova puntata di The Politicum affronteremo con gli ospiti in studio la complessa tematica del referendum sulla giustizia in studio con il direttore Nicola Baldarotta ci saranno l'avvocato Agatino Scaringi l'avvocato Sara Lagna e l'avvocato Nino Marino ci saranno anche degli interventi dall'esterno per completare il quadro delle posizioni fra i sostenitori del sì e del no vi aspettiamo quindi alle 21 in diretta sul canale 88 e sui nostri canali in streaming adesso ci fermiamo e ci rivediamo tra poco con la pagina sportiva apriamo la nostra pagina sportiva con una notizia tanto attesa dai tifosi della Palacanestro Trapani Daniele Parente riconfermato infatti alla guida tecnica della Palacanestro Trapani l'allenatore ha firmato un contratto biennale vediamo accordo raggiunto coach Daniele Parente che con 141 panchine ufficiali in Granata e già l'allenatore col maggior numero di presenze potrà dunque continuare ad allungare il suo record Daniele afferma all'amministratore delegato Nicolo Basciano rappresenta il primo tassello nella costruzione del team della prossima stagione volevamo ardentemente che Daniele rimanesse perché per noi ormai parte della famiglia Granata e le sue qualità morali e tecniche unitamente al gran lavoro che svolge durante la settimana e alla capacità di far esprimere al meglio i propri giocatori ne fanno una garanzia si tratta di una conferma importante perché vogliamo dare continuità a quanto di buono fatto gli anni passati così coach Daniele Parente ci aspetterà un anno complicato aumenteranno il numero delle retrocessioni con Valentino Renzi e Nicola Basciano stiamo già iniziando a pianificare la prossima stagione il primo passo sarà quello di completare l'organigramma dello staff tecnico e poi penseremo alle valutazioni sull'organico a partire dal gruppo degli italiani ringrazio il presidente è un onore sapere di essere stata la sua prima scelta tra gli allenatori ma allo stesso tempo è anche una grande responsabilità che mi dà tante motivazioni per fare bene si è svolto domenica il secondo campionato agro-ericino corsa di Carruzzuna organizzato dalla Proloco Valderice in collaborazione con la SD ufficiali di gara Drepanum SOS Valderice con il patrocinio del comune di Valderice vediamo com'è andata l'obiettivo della Proloco Valderice presieduta da Marianna Pavia è stato quello di far rivivere e tramandare le antiche tradizioni e tra i giochi di un tempo il Carruzzune di certo il passatempo più usato tra i bambini sia maschi che femmine per questo domenica pomeriggio Valderice è stata protagonista del secondo campionato agro-ericino la manifestazione è stata realizzata anche con l'ausilio dell'associazione cronometristi di Trapani che ha dettato i tempi di ciascuno si è trattato di un percorso piuttosto avvincente lungo la via Valenti per finire poi in viale Rosmini quattro le categorie coinvolte mini, junior, senior e open quest'ultima è inserita per dare la possibilità a chiunque di partecipare senza attenersi al rigido regolamento che ammetteva per caratteristiche specifiche i Carruzzuna alla gara l'evento ha visto come protagonisti grandi e piccini ogni partecipante ha curato il proprio Carruzzuna nei minimi dettagli sia a livello estetico che funzionale creando un gioco di colori e di forme che hanno reso il tutto unico e originale l'evento si è protratto fino al tardopomeriggio concludendosi con le premiazioni di ogni categoria premiando anche una categoria speciale quella femminile che ha visto la partecipazione di molte ragazzine ma anche di diverse signore per noi afferma la Presidente Marianna Pavia è stato un piacere e una gioia poter condividere con i partecipanti la loro passione ma ancora di più è stato bello vedere i tanti ragazzini dedicarsi a questo antico mezzo di trasporto mettendo da parte il moderno e a volte insostituibile telefonino ben ritrovati nello spazio dedicato all'approfondimento il libero consorzio dei comuni ha intitolato lo stadio provinciale alla memoria del Cavalier Giacomo Basciano annullata la prevista intitolazione dell'impianto all'onorevole Nino Croce vediamo i servizi dal 30 maggio con decreto del commissario straordinario del libero consorzio comunale Raimondo Cerami lo stadio polisportivo provinciale è dedicato alla memoria di Giacomo Basciano che fu direttore dell'impianto sportivo dalla inaugurazione del 30 ottobre 1960 fino al giorno della morte avvenuta nel 1988 l'iniziativa si legge nella nota del consorzio dei comuni nasce da una richiesta del comitato promotore composto da varie personalità del mondo istituzionale politico e sportivo trapanese tra cui i sindaci dei comuni di Trapani ed Edice e il delegato provinciale del CONI ed è stata supportata dal lodevole impegno civico e sportivo del Cavalier Basciano provato dai prestigiosi riconoscimenti ufficiali ricevuti fra cui la nomina di Cavaliere della Repubblica nonché dall'importante ruolo ricoperto nella tenace promozione per l'ideazione edificazione e gestione dello stadio provinciale di cui fu il direttore per quasi 30 anni curando anche diversi eventi sportivi nazionali e internazionali nello stesso tempo è stata revocata una precedente deliberazione di intitolazione dello stadio all'onorevole Nino Croce per la decisione di mantenere la denominazione dell'impianto come stadio provinciale in quanto si legge si tratta dell'unica struttura sportiva che a livello nazionale porta il nome dell'ente provincia come proprietario e che quindi assume un tratto distintivo unico nel panorama nazionale degli stadi calcistici è stata infatti installata all'esterno della struttura sportiva una insegna ben visibile con la scritta stadio provinciale che identifica la proprietà dell'impianto sportivo ma è stata anche data a disposizione agli uffici di realizzare e collocare nella medesima struttura sportiva una targa con la dedica dell'impianto alla memoria del Cavaliere Giacomo Basciano ben ritrovati con la nostra seconda edizione riapre a Trapani la piscina olimpionica di Piazzale Ilio da sabato 3 giugno l'impianto sarà fruibile da lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 sabato invece dalle 10 alle 19 domenica previa prenotazione la piscina resterà invece chiusa nelle festività da calendario e andiamo avanti con le notizie sono iniziati a Trapani servizi aggiuntivi che sono stati attivati grazie ai risparmi per la riduzione della raccolta del secco da 2 ad una volta a settimana vediamo il servizio a Trapani saranno operative 4 squadre di diserbo fino a metà luglio è scattato anche il potenziamento della raccolta degli ingombranti e dello spazzamento manuale delle strade secondo necessità dislocata nelle varie zone del territorio c'è anche la squadra di operatori con soffiatori a servizio delle spazzatrici grazie alla riduzione del ritiro del secco dalle utenze domestiche e scattato anche il potenziamento del lavaggio del centro storico e degli interventi di bonifica per le discariche abusive ci saranno poi gli ecopunti itineranti per ritiro sfalci di potatura come ricordato dall'assessore all'ecologia e ambiente Nini Romano tutti questi servizi aggiuntivi saranno assicurati dal risparmio scaturito dalla riduzione del ritiro del secco da 2 a una volta a settimana stimato per il 2022 in circa 350 mila euro per gli anni successivi si stimano a spesa di circa 500 mila euro i tassisti ricini protestano per il provvedimento adottato dal presidente di Airgest di far pagare anche a loro per l'ingresso in aeroporto un euro stamattina li abbiamo ascoltati da oggi dovete pagare per far aprire la sbarra un euro e non avete nemmeno un posto ufficiale dove potreste stare dovete lasciare i passeggeri nell'area parcheggio insomma tutta una serie di problematiche che voi avete contestato nei giorni scorsi e che continuate a contestare Nino allora io quello che devo dire oggi mi trovo in una situazione brutta come servizio taxi della nostra città di Erice per andare a recuperare i miei passeggeri che mi prenotano su prenotazione in aeroporto di Birgi mi trovo all'ingresso una sbarra dove che devo ritirare un ticket per poi pagare all'interno che non so che costi avrà se un euro se due euro se tre euro io praticamente mi trovo in questo grande disagio non solo e non poter accedere ai miei stalli aeroportuali che gli stalli sono di proprietà di tutti i tassisti sia siciliani che italiani qualunque taxi si possa posteggiare in quelli stalli sono chiusi con una sbarra perché riconoscono soltanto una targa che significa questa targa la targa è per i taxi di Trapani e quelli di Marsala e perché un taxi di Erice non può entrare in quell'area che è adibita per i taxi dove ci sono circa 20 stalli taxi che appartengono alla provincia di Trapani perché dobbiamo avere questo piccolo problema con questo aeroporto penso che sia una cosa giusta e leale che noi quando arriviamo in aeroporto la sbarra si apra da sola senza pagare nulla noi sostanzialmente siamo disposti a venire incontro alle esigenze del comune dell'airgest sicuramente però con le dovute maniere con i dovuti modi noi non siamo disposti a pagare per entrare quindi il nostro è un servizio pubblico e ci devono assolutamente permettere di entrare per lavorare e abbiamo anche bisogno di avere degli stalli dedicati a noi non possiamo andare come tutte le altre utenze in un parcheggio con il rischio di non trovare posto con il rischio di far fare strada in più ai nostri clienti e con il rischio di ingolfare ancora di più il traffico ripetisco noi siamo un servizio pubblico per me possiamo anche contribuire ma in maniera diciamo così però quanto meno dovete avere dei servizi però quanto meno dobbiamo avere dei servizi ci sono delle normative nazionali che stabiliscono il transito dei servizi pubblici sia NCC che taxi all'interno di aeroporti porti stazioni il presidente Ombra si è impuntato nel pagamento di questo ticket di un euro per quanto riguarda noi tassisti senza però capire che il servizio pubblico è un servizio che viene dato alla collettività che è un servizio che le persone devono prendere per poter andare dall'aeroporto alle altre destinazioni e personalmente ho chiesto al presidente Ombra di farmi vedere la legge che impone il pagamento di questa cosa ancora non ho avuto nessuna risposta ma la cosa più assurda è che ancora oggi aspetto l'ordinanza dell'Enac dove stabilisce quanto detto dal presidente Ombra e a quanto detto io sono andato fino a dieci minuti fa a vedere sul sito dell'Argest non c'è nulla su questo l'ordinanza 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 l'ordinanza